7. 8. Allora ragazzi, vedete, proprio davanti, adesso, alla punta della nave, in base in corrispondenza della bandiera. Guardate vedete un'altra polizia, è come il bustino di un uomo spostissimo nella roccia. Quindi, comunque, è un fenato, Siamo quasi dietro dal profilo americo e l'altra parte di schierare è la distrazione di onde e lo sguardo che sembra rimuoto verso il basso. Sopra l'inverso della croccia, lo vedete adesso sulla parte sinistra, così come ci stiamo spostando. E con più sfide, anche se la scuola è sperata che ci si verrà, sarebbe un po' più sfidato. Vedete tutto questo confritto, sono gli amici, scopriamo tutto il patato con il tonero e da fine non si è venuto con il tonero, con il tuo clima. Grazie a tutti!